Accolgo questo incarico con profondo spirito di servizio e con la solenne promessa di un impegno costante. Parole queste pronunciate da Fra John Dunlap, 66 anni, canadese, eletto 81esimo gran maestro del sovrano ordine militare di Malta. Il suo primo cavaliere professo d'oltreoceano scelto per la carica di vertice è stato un richiamo alle nuove sfide che l'organizzazione nata a Gerusalemme nell'undicesimo secolo è chiamata ad affrontare. Fra John Dunlap ha detto Ad eleggere il nuovo gran maestro è stato il consiglio compito di Stato che si è riunito nella villa magistrale e una delle sedi istituzionali dell'Ordine di Malta a Roma. La scelta è avvenuta sulla base di una terna indicata dal capitolo dei professi. Gli eventi diritti al voto erano 99 provenienti da 18 paesi. Voci è il riflesso del mondo proprio come l'Ordine di Malta, un'organizzazione che opera nell'ambito dell'assistenza medica e sociale degli interventi umanitari ed è presente in oltre 120 paesi con 13.500 membri e 95.000 volontari sostenuti da circa 52.000 medici, infermieri e paramedici. Il gran maestro è il capo di questa rete di relazioni e di impegno. I suoi compiti sono disciplinati da una costituzione in vigore dal settembre scorso che per la prima volta consente di eleggere al vertice una persona non di rango nobiliare e prevede un incarico non vitalizio ma di durata decennale. Fra Dunlop dovrà impegnarsi per incrementare le opere dell'Ordine ed essere esempio di autentica vita cristiana.